Oggi vogliamo condividere con voi uno splendido loft nel cuore della città di Lugano. Venite con noi per scoprirlo. Ed eccoci arrivati qui a Viganello, siamo a pochi passi dal lago. Andiamo a scoprire questo fantastico loft. Da qui accediamo comodamente al piano con l'ascensore. Ed eccoci qui, siamo all'interno del loft. Abbiamo una cucina, open space, che si apre sul soggiorno. Abbiamo queste grandi letrate che donano luminosità a tutta la zona giorno. Troviamo un comodo bagno che serve tutta la zona giorno. E procediamo verso la prima camera da letto. Andiamo al piano di sotto dove troviamo un'ulteriore camera. Qui abbiamo il bagno con la doccia. E qui abbiamo la strada. E qui abbiamo il bagno con 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 il bagno. Grazie a tutti.